Nasce Party Magazine, rivista Glamour dedicata a Napoli e gli eventi. La vocazione è quella di raccontare la città con un punto di vista dinamico e l'attenzione all'arte, il design, le feste, la moda, la cultura, la street art, i libri, la musica, il teatro, l'impresa e l'artigianato. E poi uno sguardo al mondo social, alla tecnologia, alle serie tv, rubriche dedicate al food, alle mamme, al bonton e agli animali, ma anche al fitness e alla bellezza. Su ogni numero l'intervista a Poker D'Assi, quattro domande incrociate a quattro personaggi che conoscono bene Napoli e lo speciale Covered Top, dedicato al lavoro di lussatori italiani e stranieri. Mimmo chiama Gigi, risponde e la rubrica di Carratelli e Necco, che si annuncia già intrigante, come conferma Mimmo Carratelli. Oggi fare il giornalista è un salto nel buio, è meglio fare l'hostess o il pilota d'aeroplani. E quindi, come dicevi tu, è un'iniziativa abbastanza coraggiosa, ma evidentemente sono ragazze di una tenacia e di una forza di carattere, voglia e di curiosità, poi dotate di grande curiosità, che hanno realizzato questo, chiamiamolo, prodotto, va. La copertina e la grafica, l'art director Carmine Luino si ispirano alle riviste patinate degli anni 30, dove l'utilizzo dell'immagine diventa evocativo e ironico e punta a colpire l'attenzione, piuttosto che ad anticipare i contenuti. L'editore Lula Carratelli ha scelto un direttore don, giovane e intraprendente, Federica Riccio. È distribuito gratuitamente, lo trovate negli store, nei locali, nei bar, nei saloni di bellezza, ad esempio nei centri medici, ovunque dove nell'attesa si può sfogliare appunto la nostra rivista, la si può anche collezionare perché è una rivista patinata, dunque ha una illustrazione. A differenza di tanti magazine che mettono il personaggio abbiamo deciso di dare un tocco un po' internazionale con il nostro art director Carmine Luino, con Lula Carratelli che è il nostro editore e quindi una grafica anni 30, una grafica vintage.